Musica Continuiamo questa splendida serata qui in piazza San Carlo, abbiamo una cantante, anzi una cantante lirica, una grandissima voce, l'abbiamo vista prima esibirsi, Elena Morfeo Grazie, buonasera a tutti, mi chiamo Elena Morfeo, sono contenta di essere qua stasera, mi ha invitato già da un anno, mi invitava Barone, ero sempre occupata a cantare di qua di là, adesso l'altro giorno ho detto va bene vengo qua volentieri per queste persone, perché hanno bisogno di trovare una casa questa povera gente Certo, poi è importante che un artista come te, come altri che si sono esibiti, siano umili, vengano qua, come noi anche, così per aiutare, per dare una mano a queste persone che hanno bisogno, che potremmo essere anche noi se siamo avanti così l'Italia Sì, questo è vero, c'è tanto bisogno di aiutare queste persone, a meno che non succeda neanche a noi, perché non si sa mai un giorno, speriamo di no, però abbiamo bisogno, queste sono anche persone umane come noi E bisogna che si trattano bene anche loro, che trattiamo bene questa povera gente, e io sono venuta veramente con un grande onore per cantare per loro Ed è un onore per noi di averti intervistata, ti ringrazio Elena Grazie mille, grazie, buonasera Grazie Grazie